Grazie Allora cominciamo, andiamo subito nel vivo Node-RED, la parte di installazione come vi avevo accennato come ho già segnato anche sul post l'ho saltata volutamente perché? Perché Node-RED è un software che gira su piattaforme diverse in scenari diversi, in ambienti diversi fare un unico, cioè iniziare il corso spiegando come installare già partendo dall'idea che c'è una miriade di maniere diverse per ottenere lo stesso risultato mi sembrava troppo dispersivo quindi gli approfondimenti sulle installazioni possiamo vederli direttamente sulla pagina magari creiamo un thread apposta qui vediamo il prodotto già installato Node-RED che cos'è? Node-RED è un servizio web è una pagina web disponibile all'indirizzo della macchina sulla quale l'abbiamo installato e di default, quindi in maniera automatica in maniera predefinita viene impostato sulla porta 1880 qui nel mio caso già vedete subito un'eccezione perché la porta è la 1881 la cosa è evoluta perché io ho l'installazione sulla 1880 che è quella di produzione di casa mia la 1881 l'ho creata per fare il corso in modo da avere una situazione vuota una situazione dove poter implementare e dove poter fare tutti gli esperimenti del caso da che cosa è contraddistinto Node-RED Node-RED è contraddistinto da tre aree principali l'area di lavoro cioè questa, tutta la parte che noi vediamo che è parte predefinita con la griglia questa è la nostra area di lavoro noi qui andremo fisicamente a piazzare tutti i nostri nodi le nostre attività, le nostre cose e qui verrà svolto il percorso logico del programma che inizia in un punto e finisce in un altro poi che cosa abbiamo? abbiamo la lista dei nodi questi sono tutti nodi un nodi si distinguono in tre tipologie principali nodi che generano un evento e generano quello che viene chiamato un telegramma cioè il messaggio che si sposta da un nodo all'altro nodi che identificano nodi di uscita cioè nodi che ricevono un telegramma ma che non fanno nient'altro e nodi di ingresso-uscita cioè come tipo questo il nodo entra in una maniera e ne esce in un altro in che maniera esce? a seconda del nodo che noi andiamo ad utilizzare ci sarà una funzione diversa che questo nodo farà facciamo un esempio classico il primo esempio, la classica Hello World è nell'area di lavoro si trascinano i nodi dalla loro posizione si trascina sull'area di lavoro e qui vengono piazzati la parte sulla destra invece contiene una parte di informazioni legate ai nodi come vedete qua abbiamo una serie di sotto opzioni abbiamo la finestra di debug qui in questa finestra verranno stampati tutte le informazioni, tutti i telegrammi che noi gli diremo che vogliamo visualizzare vedremo dopo come fare abbiamo un nodo di informazioni a seconda del nodo che io seleziono all'interno del mio della mia area di lavoro e lo riconosco perché diventa contornato di arancione quindi questo è un nodo selezionato lui mi descrive il nodo e mi descrive quali sono le caratteristiche di questo nodo e come faccio a lavorare con questo nodo il nodo di debug l'abbiamo visto il nodo di dashboard lo vediamo successivamente perché la dashboard in realtà non parte configurata i nodi di configurazione anche questo lo vedremo successivamente e i nodi relativi alle variabili e alle funzioni che sono residenti all'interno del programma anche qui capiremo dopo questo è un'area diciamo di memoria, di dati che è legata all'utilizzo delle funzioni come abbiamo detto prima io trascino il mio nodo e qui decido che cosa fare ovviamente un flusso di lavoro è composto da un inizio, una lavorazione e una fine vuol dire che io devo partire da un nodo che genera un evento e lo faccio finire con un nodo che termina l'esecuzione del flusso l'esempio classico, la classica Hello World io prendo il nodo timestamp cioè un nodo che alla pressione di questo pulsantino qua mi genera un messaggio che contiene un'informazione molto semplice l'ora e poi ho un nodo di debug cosa fa questo nodo? questo nodo andrà a farmi scrivere il messaggio all'interno di questa finestra che è la nostra finestra di debug che la posso vedere o in questa maniera e la posso selezionare attraverso il tastino a forma di scarafaggio debug appunto che c'è all'interno dei pulsanti disponibili ma come faccio a mettere in comunicazione il nodo che mi genera l'orario col nodo che mi deve scrivere l'orario nel debug? semplicemente io vedo che qui ho un quadratino sul lato destro del nodo questo significa che questo qui è un nodo di uscita mentre invece sul debug ho il nodo di ingresso perché sta a sinistra vuol dire che da qui le informazioni entrano quindi cosa succede? prendo dal nodo di sinistra tengo cliccato con il tasto sinistro del mouse lo trascino e lo collego col nodo di debug io in questo momento ho già messo in comunicazione questi due nodi io sto dicendo al nodo inject quindi di generare un messaggio con all'interno l'orario e di mandarlo al nodo di debug che me lo stamperà qua ma non è finita qui perché questo nodo fatto così non è già ancora pronto come vedete noi abbiamo un pallino azzurro il pallino azzurro indica che il nodo è stato modificato dall'ultimo posizionamento cioè dall'ultima configurazione quindi cosa succede? vuol dire che questo nodo deve essere lanciato deve essere, si dice tecnica chiedo scusa non posso venire adesso scusate la bambina vuol dire che il nodo è stato modificato e deve essere riapplicato bisogna riaggiornare tutto il flusso come si fa? attraverso questo strumento di deploy ogni volta che io creo un nodo ogni volta che io sposto un nodo che cambio la configurazione di un nodo qualsiasi cosa io creo un nodo il flusso deve essere rigenerato deve essere riapplicato quindi io premendo questo tasto cosa succede? succede che è sparito il pallino azzurro come avete visto i due nodi sono andati in funzione e mi si sono anche abilitati questi due tastini qui questo tasto che non è disponibile su questi due nodi cosa mi fa? mi abilito o disabilita il nodo quindi io qua posso decidere se visualizzare o meno il messaggio e su questo nodo timestamp mi permette di generare il messaggio sulla pressione di questo tasto se io faccio la prova in questo momento io vedo che nel debug mi è comparso questo 1585 e bla 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 questo numero qua non è nient'altro che la rappresentazione seriale dell'orario di oggi partendo dal primo gennaio 1990 è il numero di secondi passati lo vedo in forma di numero se ci clicco sopra lo vedo in forma di timestamp se ci clicco ancora lo vedo in formato in formato formattato con le impostazioni locali altrimenti lo vedo come numero esadecimale come registro questo è il primo nodo abbiamo avuto un nodo che ha generato un evento e abbiamo avuto un nodo che ha ricevuto un evento ma non è finita qui i nodi possono essere personalizzati possono essere configurati in una maniera particolare per cui devo conoscere i nodi per poterli utilizzare analizziamo per esempio il nodo timestamp se io clicco due volte mi apre la pagina di configurazione vedete che lui parla di payload parla di topic queste due informazioni payload e topic saranno ricorrenti le troveremo dappertutto all'interno di Node-RED perché? perché Node-RED come ho anticipato prima è un sistema di scambio messaggi fondamentalmente la maniera per cui il nodo inject trasmette un'informazione al nodo payload si chiama messaggio questo messaggio ha una struttura noi in questo momento abbiamo visualizzato soltanto una parte vedete msg.payload vado a fare una modifica al nodo debug debug output mi dice che cosa vuoi tirar fuori? il messaggio che è sempre rinominato msg all'ingresso quindi nel momento in cui esce da un nodo all'interno del nodo successivo sarà identificato come msg questa informazione ci torna utile quando dovremo personalizzare il contenuto di alcuni messaggi oppure quando dobbiamo utilizzare i nodi funzioni dove andiamo a scrivere noi le funzioni in javascript questo ci serve per capire come organizzato un messaggio tra le opzioni del nodo di debug io posso scegliere se usare il messaggio e quindi poi una sua chiave oppure complete msg object se io vado a vedere il complete msg object e gli do done quindi ho completato la configurazione vedete che mi è riapparso il pallino blu questo nodo è stato modificato e quindi non ha ancora applicato le modifiche che io gli ho dato per farlo devo riapplicare il deploy devo rideployare il flusso sparito il nodo blu quindi questo nodo è stato adesso lavorerà con le informazioni che io gli ho modificato di nuovo genero il mio messaggio non ho modificato il nodo di injected timestamp eppure l'informazione adesso è diversa che cosa ho ottenuto ho ottenuto un messaggio sotto forma di oggetto json si chiama è un modo di rappresentare un'informazione in maniera più articolata l'oggetto json scusatemi scusate ho una bambina di 5 anni in emergenza perché gli si è bloccato lo streaming ma dovrà aspettare un attimino dicevamo ho un oggetto che si presenta in maniera diversa pur avendo sempre la stessa informazione il mio payload è sempre quello se io clicco qua vedo comunque sempre l'orario e lo vedo nei formati corretti ma cosa mi è cambiato? che il messaggio completo è composto da chiavi e valori l'oggetto msg ha la chiave underscore msg di che con un numero di serie che rappresenta l'identificativo unico di questo messaggio questo qui è un numero casuale che genera la node red e che non si ripeterà mai più topic vi ricordate che noi il topic l'avevamo visto all'interno del node inject? perché topic? il topic è un modo di indicizzare il contenuto del messaggio di identificare l'argomento di questo messaggio verrà utilizzato, lo utilizzeremo molto spesso più avanti lo utilizzano molto gli assistenti vocali per esempio si utilizza sui nodi per limitare o per ritardare determinati messaggi il topic è un po' quella cosa che ti fa identificare il messaggio non per il suo contenuto ma per le sue caratteristiche e poi c'è il payload il payload è il dato utile l'informazione vera, quella che io sto trasmettendo tutto il resto erano informazioni legate al messaggio il payload è il dato che io ti sto trasportando quindi capire bene la differenza tra i topic e i payload qual è il messaggio utile è molto 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 importante perché poi è su questo che gira tutto node red non sono vincolanti sono le chiavi quindi MSGD, topic e payload si usano per convenzione per cui si dice ma l'informazione che ti sto passando il payload che ti sto passando dimmi il topic del messaggio vuol dire che ci stiamo riferendo a questo ma nulla ci vieta all'interno di un nostro flusso personalizzato di utilizzare qualsiasi tipo di chiave l'importante è che noi lo sappiamo e sappiamo interpretare quello che stiamo facendo quindi per il momento utilizziamo topic e payload più avanti vedrete che informazioni utili non saranno soltanto nel payload e non sarà soltanto topic che utilizzeremo il nodo inject può anche essere personalizzato in altre maniere il mio payload abbiamo detto che può essere un timestamp una funzione predefinita del sistema mi dice se vuoi io ti mando l'orario ma io gli posso mandare una serie di altre informazioni vediamo le principali io gli posso mandare un numero gli posso mandare uno gli posso mandare zero gli posso mandare qualsiasi numero in qualsiasi forma gli posso mandare una stringa un testo il famoso ciao mondo lo mando in questa maniera gli do il mio done vedete che devo sempre deployare perché ho il pallino azzurro do lo scarico riclicco sul mio messaggio il mio messaggio adesso è cambiato non è più l'orario di oggi il mio payload non è più 1538 ma è diventato ciao mondo non solo se vi notate questo qui questo payload questo timestamp è scritto in blu mentre questo è scritto in rosso e tra virgolette cosa significa? significa che questo payload è un numero è un numero seriale è un numero di riferimento è un numero che lui sa interpretare mentre questa è una stringa che lui non interpreta è una stringa la tratta come tale te la riporta così com'è senza nessuna ulteriore elaborazione è diverso nel mondo di no dread inviare un numero inviare una stringa è diverso e può generare degli errori o può generare delle mancanze delle mancanze di verifica perché se io valuto una stringa con un numero otterrò sempre un errore quindi bisogna anche fare attenzione al tipo di informazioni che mandiamo oltre alla stringa oltre al numero io posso mandare un booleano un vero o falso molto semplice vero o falso zero o uno questa cosa qua per esempio ci tornerà molto utile quando analizzeremo le dashboard o anche quando solo andremo a visualizzare le andremo a interagire con il connex perché vero e falso convertiti in numero zero o uno sono esattato questo tipo di rappresentazione e facilitano di molto le cose non solo il node inject posso anche personalizzarlo posso farglielo ripetere posso inventarmi un timer su questa funzione lo stesso che nel mondo connex è la ripetizione messaggio su uno stato ci sono dispositivi che possono mandare ogni minuto ogni due minuti se è una stazione meteorologica che deve mandare il segnale di allarme e vento ogni minuto deve mandare zero o uno ogni minuto io qua gli posso dire la stessa cosa voglio che tu in un intervallo di un secondo facciamo tre secondi così almeno lo vediamo un attimino meglio mi mandi questo messaggio true vediamo che cosa succede adesso io non tocco niente non sto toccando il mio cursore qua eccolo qua uno due tre uno due tre adesso arriva anche l'altro vedete che lui mi duplica il messaggio io non ho toccato niente io prima avevo toccato il pulsantino ma adesso non avevo toccato niente eppure lui continua a mandarmi true perché? perché questo nodo è stato personalizzato per ripetere l'informazione e lo riconosco anche perché mi è apparsa questa frecciolina che gira su se stessa vuol dire che c'è una ripetizione su quel nodo questo è il adesso lo interrompiamo perché se no andrà avanti fino a un secolo non riusciamo a vedere nient'altro però abbiamo visto come ripetere i messaggi come ripetere il contenuto di un messaggio il nodo debug diventa il vostro miglior amico da questo momento perché? perché io sono in grado di visualizzare visualizzare tutto quello che succede all'interno del mio flusso semplicemente collegando i nodi in uscita al nodo di debug così vado a vedere che cosa succede esempio perché io non è che il collegamento non deve essere necessariamente uno a uno io posso collegare posso collegare più nodi all'uscita di questo e posso mettere in ingresso di questo più nodi facciamo un altro esempio prendiamo una funzione switch proviamo lo switch lo switch che cosa fa? se io non so che cosa fa un nodo una volta che l'ho selezionato vado a vedere le sue informazioni le sue informazioni che cosa mi dicono? mi dicono che quando un messaggio arriva il nodo valuta ognuna delle regole che sono state definite all'interno e inoltre il messaggio che corrisponde a quella regola forse non era lo switch la cosa che mi poteva servire no allora scusate lo cambio facciamo il nodo change che è più facile il nodo change il nodo change che cosa fa? prende un parametro del mio messaggio in ingresso e lo cambia quindi che cosa succede? io dico che il mio nodo inject mi manda true ok però io gli dico che invece voglio che mi mandi falso quindi cosa sto facendo? dipendentemente da quello che tu mi mandi in arrivo voglio che tu me lo cambi in falso adesso cosa faccio? facciamo una prova io prendo il nodo true oltre a collegarlo al debug lo collego anche a questo nodo ma questo nodo una volta che esce il messaggio non va da nessuna parte come faccio a vederlo sul mio debug? prendo l'uscita del nodo di change e lo metto sul mio debug cosa succede? cosa mi aspetto di vedere io a questo punto? mi aspetto di vedere due messaggi il primo il true che viene da qua è il secondo il false che mi arriva da questo nodo vediamo se ho fatto giusto che cosa ottengo? ottengo un messaggio true e un messaggio falso ma come faccio a capire chi mi ha mandato cosa? come faccio a capire chi mi ha mandato questo messaggio true e chi mi ha mandato questo messaggio falso? come abbiamo fatto prima usiamo il topic io posso usare il topic da questo nodo per dire nodo inject e gli do ok mentre a questo nodo cosa gli dico? non potendo settare qua da nessuna parte gli posso settare il topic cosa faccio? gli aggiungo aggiungo una regola set msg topic come lo fai diventare da nodo change faccio il mio deploy vedete che palina azzurro palina azzurro quindi devo cambiare quindi devo fare il deploy faccio il deploy mi cancello il debug così non mi confondo eccolo qua topic nodo inject topic nodo change questo è un classico esempio per farvi capire come utilizzare il nodo topic scusate la chiave topic per capire chi identifica il messaggio altrimenti diventa complicato perché io posso mettermi qua sul nodo vedete che quando io mi porto sul messaggio immediatamente io ho la linea tratteggiata arancione sul nodo di debug perché? perché vuol dire che questo messaggio è arrivato da quel nodo ma quel nodo riceve informazioni da più di un nodo cioè da più di un origine e quindi non riesco a capire esattamente quale sia la persona di riferimento vi faccio anche un altro capire anche un'altra cosa il message d il message d vi avevo detto che era un numero univoco quindi qui io ne ho uno eppure qua ho lo stesso numero perché? perché il nodo il message d viene generato quando viene generato il primo messaggio dopodichè che cosa succede? il message d viene generato dal nodo inject e prende questo valore questo messaggio poi io l'ho passato dentro questo nodo lo stesso messaggio è uscito ed è andato al debug quindi lo stesso messaggio ha fatto due passaggi ed è arrivato sul nodo debug non ha subito cambiamento non ha generato nuovi messaggi per cui è corretto che abbia due volte lo stesso message d perché vuol dire che questo messaggio è passato è passato dal nodo inject ed è passato dal nodo change ed è esattamente quello che io mi aspettavo di voler fare di poter di vedere ditemi se allora io adesso potrei farvi vedere già la prima era il primo flusso lavorando su Connex ma ditemi voi se avete dubbi se volete vedere un'altra parte il tempo a nostra disposizione starebbe già scadendo possiamo andare avanti ditemi voi che cosa volete fare volete capire ancora di più volete vedere qualcosa di più di specifico o se avete domande non vi sento ciao Marco ciao Fabio dimmi no no vabbè io era giusto per farmi sentire per me può andare avanti visto che nessuno parla esatto poi vedi vediamo al tuo programma se era il caso magari di andare su sul Connex o magari entrare un po' nel merito della funzione che forse è anche quello che verrà trattato nel Connex o no allora adesso lavorerei sul Connex molto semplicemente andando a inviare uno stato andando scusate andando a inviare un comando e ricevendo lo stato indietro le funzioni le cose più elaborate aspetterei ancora un attimino però adesso andiamo a vedere come faccio ad installare Connex per quanto conosciuto per quanto diffuso non è una funzione primaria di Node-RED quindi vuol dire che io per lavorare con Connex direttamente prima devo installare il nodo che mi permette di lavorare col Connex Node-RED ha un menu che è questo identificato da queste tre righettine in alto a sinistra questo menu ha una serie di voci le andremo a vedere poi tutte quante ma una è quella che ci interessa in questo momento è il Manage Palette le palette sono i set di nodi che mi raggruppano una funzione noi abbiamo visto scusate torno un attimo indietro noi abbiamo visto che qua i nodi sono già tutti indicati qua io qualcosa ho già installato per esempio mi sono già installato il primo nodo di KNX mi sono installato anche il nodo di Alexa di Home Assistant e di Con B che sono quelli che poi utilizzo normalmente durante i miei flussi però KNX non è un nodo che esiste già di natura quindi vado a installarlo Manage Palette qui vedo che cosa ho installato io tutta questa parte di nodi installati dove poi eventualmente se sono disponibili degli aggiornamenti mi segnala lui la posizione altrimenti vado a cercare nel repository di Node Red che contiene 2521 nodi in questo momento quindi abbiamo veramente una scelta vasta di funzioni cosa cerco cerco KNX KNX come vedete ce ne sono parecchi per lavorare in maniera tranquilla e in maniera sicura con KNX io ve ne suggerisco due principalmente che sono il Node Red Contrib KNX e il Node Red Contrib KNX Ultimate questi due nodi possono essere configurati insieme la fondamentale differenza è che Ultimate consente di andare a creare nodi specifici per gruppi specifici mentre invece il Contrib Campa NX questo nodo invece riceve proprio come se fosse un'interfaccia di login del Connex prende tutto quanto non fa nessun tipo di distinzione Ultimate invece permette di poter specificare nella configurazione il nodo esatto che vogliamo andare a interpellare in questo momento una volta che io decido qual è il nodo che mi interessa clicco sulla voce install tempo qualche minuto si installa il nodo e la sua configurazione scusate e i suoi nodi disponibili cercandoli come KNX li trovo disponibili qua questo KNX e questa KNX Out sono il primo nodo KNX che abbiamo visto questi tre verdi invece sono quelli di KNX Ultimate ho tre nodi KNX Device KNX Watchdog e KNX Scene Control andiamo a vedere il device che cos'è questo è il vero interfacciamento con il mondo Connex clicco due volte sul mio nodo e che cosa vedo vedo intanto che gli devo dare una configurazione di un gateway adesso questo per esempio è quello del mio appartamento quindi gli do una connessione può essere sia tunnel che multicast quindi se gli do un specifico 192.168 un IP che non è multicast perché gli IP di multicast sono tutti sulla rete 2240 e gli do la porta altrimenti se io gli metto 2240.23.12 che è il multicast assegnato a KNX lui capisce che non è più un tunnel e lavora in quella maniera lì gli posso specificare l'interfaccia di rete da utilizzare adesso voi vedete qua che ne ho a migliaia perché la macchina sulla quale l'ho montata utilizza anche docker ma non è questo il problema lasciate tranquillamente in automatico lasciamo senza andare oltre a configurare senza andare a configurare oltre l'ultima le opzioni avanzate le lasciamo indietro le lasciamo così come sono l'importazione del gruppo indirizzi di ets questa cosa è molto importante perché perché se io esporto gli indirizzi di gruppo da ets in maniera poi qua vedete che c'è il video su youtube vi spiega come farlo comunque l'esportazione si fa in cvs mi sembra in formato andiamo a vederlo al volo intanto lo carichiamo subito eccolo qua va esportato in cvs 1 a 1 nome e address in questo formato poi ci sono le istruzioni vi invito a a seguirle aprite il file e copie e incollate il contenuto del file qui dentro che cosa otteniamo otteniamo che le risposte che knx ci darà avrà i data point assegnati correttamente quindi l'indicazione del valore sarà secondo il data point che noi abbiamo configurato su ets e soprattutto ci darà i nomi e le descrizioni che noi abbiamo inserito nelle descrizioni dei gruppi di ets ci dà una mano piuttosto che vedere le cose così vuote senza niente io in questo momento non ho caricato i gruppi di intendi gruppi però che cosa succede gli posso dire scusate questa era una configurazione server le configurazioni server sono configurazioni che sono comuni a tutti i nodi vuol dire che adesso io ho trasportato il primo nodo di knx e gli ho configurato un server se io trascino fuori un altro nodo di knx non gli devo riconfigurare un altro server andrò a riutilizzare la stessa configurazione che gli ho dato prima questa cosa cosa serve scusate il gioco di parole serve a ridurre il numero di connessioni se lavoriamo in un ambiente connex con un ip router o un multi quindi un indirizzo di multicast non ho problemi perché non ho limiti di connessione ma se io lavoro su un'interfaccia LAN di un appartamento o comunque di un impianto che non ha un ip router ma ha soltanto un'interfaccia LAN ricordiamoci che nel bene o nel male abbiamo 5 tunnel a disposizione uno sarà quello che stiamo usando di ETS il secondo magari è quello che stiamo usando nella diagnostica di ETS uno lo userà il supervisore del cliente il quarto non lo so se servirà qualcosa comunque ce ne restano bene o male due se io su ogni nodo creo una configurazione diretta punto punto per sull'interfaccia IP capite anche voi che dopo il sesto il sesto device mi si blocca tutto quanto quindi node read il nodo il nodo di configurazione di server cosa servono servono per utilizzare una sola connessione a quali gli altri nodi andranno a fare riferimento io così facendo creo una sola connessione e impiego soltanto un indirizzo dell'ip router questo è molto importante proprio per ottimizzare le configurazioni di server meno sono meglio è soprattutto per gli stessi per gli stessi applicativi un altro esempio vedremo eventualmente più avanti l'autenticazione con gli assistenti vocali quindi con Google Home e con Alexa stesso discorso utilizzerò un nodo di connessione al server e una serie di scusate utilizzare una sola configurazione server e una serie di nodi che andranno ad attingere a quella configurazione server per poter scambiare informazioni e dati con i vari gruppi con i vari assistenti vocali torniamo al nostro gateway quindi mi sono configurato il mio 11216805 3671 gli devo dire qual è il gruppo che devo andare ad ascoltare o che devo andare a comandare se non lo so dovrei andare a guardare sul mio ETS nel nostro caso lo so è lo 001 che è la luce che sto usando in questo momento data point data point è un 1-1 è uno switch quindi è semplicemente quello node name se voglio dargli un nome luce Marco topic eccolo qua che è tornato il mio topic quindi cosa gli dico luce Marco anzi facciamo così knx luce Marco poi gli posso dare un'altra voce che mi annullerebbe lì a quello che gli ho dato adesso cioè ascolta tutto come se fosse un log tutto quello che arriva tu rimandamelo fuori vediamo un po' che cosa succede ma non ci interessa in questo momento lo vediamo in un'altra maniera e gli do ok ma questo nodo comunque da solo non fa niente cosa faccio? lo sposto sul mio debug ok do il mio deploy do il mio deploy eccolo qua si è connesso vedete questa righetta questa scritta che c'è qua sotto si chiama le informazioni di stato vuol dire che il nodo pubblica sull'interfaccia di Node-RED il proprio stato quindi verde sono a posto funziona 001 è il gruppo che gli avevo detto di ascoltare 24 16 03 37 allora 24 non so cosa 24 è il giorno di oggi 16 03 37 è l'ultimo aggiornamento perché sono i 16 03 connesso in attesa di telegramma perfetto cancello questo e andiamo a fare la prova sono di fianco al mio interruttore spengo la luce eccolo qua ecco il mio telegramma vedete che è diventato 001 falso perché io ho spento la luce era accesa knx object cosa succede? che l'1115 che è il mio device fisico ha mandato lo 001 il 01 1115 è la mia interfaccia pulsanti ha mandato il comando falso dov'è che ha mandato il comando scusate ha mandato il comando off questo è quello che è successo payload falso payload true adesso che cosa succede? succede che io qui ho comandato la luce andiamo a vedere se io posso invece accendere o spegnere la luce manualmente senza toccare l'interruttore come posso fare? vi ricordate payload falso chi altro mi poteva mandare il payload falso true il mio node inject ne prendo due ne prendo due ne trascino due perché? perché uno mi manderà il vero e l'altro mi manderà il falso quindi con uno l'accendo e con l'altro la spegno boolean mando il true topic knx marco accendi e gli do il done questa gli dico mandami un boolean falso ops knx luce marco spegne e gli do ok spostiamo un po' in modo da riuscire a portare questa parte qua visto adesso io porto tutte e due allo stesso punto cancello il mio debug vado a vedere vado ad accendermi la luce speriamo che funzioni non funziona cosa ho sbagliato fatemi vedere ah no no si è accesa si è accesa scusate si è accesa adesso eccola qua true ci ha impiegato un po' ah si ok no ho capito io perché scusate ho l'interfaccia di rete che è lenta vado a prendere questo vado a spegnere la luce eccola qua spenta avete visto io con un nodo di con un semplice nodo di con un semplice flusso composto da un nodo e un messaggio a questo punto avendo lo stato di vero falso qua io questa connessione la posso anche tagliare non mi serve più vederlo sul debug perché perché lo leggo già qua se funziona o non funziona quindi come faccio a interrompere il collegamento tra questi due nodi seleziono il nodo vedete che mi si evidenza di arancione e poi premo cance ho cancellato il collegamento tra i due ma devo dare il mio deploy devo andare ad applicarlo perché altrimenti continuerò a farlo adesso cosa succede succede che questo se voglio lo accendo mi è andato in true e questa se voglio la spengo mi è andato in falso ma questo era il il comando questo qua è il gruppo di comando non è il gruppo di ascolto non è il gruppo del feedback se io volessi il gruppo del feedback cosa dovrei fare mi riprendo un knx mi prendo un altro nodo di knx device e me lo porto qua me lo configuro vedete che qua la configurazione c'è anche la mia configurazione di casa 0 0 2 che io so già essere il mio gruppo di ascolto il mio gruppo di feedback per questa luce knx luce marco fib e cosa faccio la porto al mio debug andiamo a vedere cancello un po' di debug vecchi faccio il mio deploy wrong group address format per forza ho dimenticato un pezzo eccolo qua 0 0 2 dpt rifaccio il mio deploy non l'ha preso no adesso l'ha preso ok andiamo a vedere che cosa succede se io vado ad accendere la luce eccolo qua avete visto? mi è arrivato un messaggio mi è arrivato un messaggio e che cosa dice questo messaggio? mi dice che io ho comandato questo nodo ma siccome il knx ha restituito l'attuatore ha restituito il feedback sul gruppo 0 0 2 questo nodo ha generato un messaggio questo messaggio dice che il payload è andato a true che questo l'ha generato che questa source 1 1 1 che non è più il mio interruttore rifacciamo una prova ma credo questa parte qua io non vi sento ma credo che questa parte qua sia più o meno chiara a tutti se io adesso vado a spegnere la luce eccoli qua io ho due messaggi il primo è quello del mio interruttore source 1515 202 questo non so chi sia scusate devo capire perché adesso mi ha dato un 1515 ah giusto perché non l'ho fatto dall'interruttore che stupido io allora ho spento dall'interruttore 1115 è il mio interruttore è il mio pulsante che ha mandato sul comando 1001 ha mandato il comando off e poi che cosa è successo che il mio attuatore 111 ha risposto sul gruppo di stato dicendo sono off mi si è anche spento il led che avevo scelto sull'interruttore quindi esattamente quello che io faccio con qualsiasi supervisore io riesco a vedere quello che succede sul bus altro esempio se io volessi veramente sapere cosa succede sul bus mi trascino un altro device un altro knx device e stavolta non lo configuro col parametro del gruppo gli dico ascoltali tutti dimmi che cosa succede sul bus semplice così knx ops oh no cosa ho combinato ok scusate knx all questo diventa esattamente qui ho un messaggio che mi dice guarda che non avendo incluso ho fatto il copio e incolla dei gruppi non arriveranno formattati lo so va bene knx all lo metto sul debug faccio il mio deploy e adesso aspetto vedo che cosa succede oh c'è un messaggio chi è 0358 perché perché io ho un invio ciclico su un'applicazione adesso su un applicativo per cui continuo a inviare un messaggio di stato per un attuatore perché mi serve su casa e che cosa succede 0358 io non l'ho configurato da nessuna parte perché perché knx all ascolta tutto e quindi mi dice quello che sta succedendo sul bus io questo messaggio lo posso prendere lo posso elaborare lo posso cercare vedete che lui come topic mi dice mi da di default il gruppo address perché mi dice non sapendo come identificare il messaggio ti dico che l'indice del messaggio il riconoscimento di questo messaggio è il gruppo di destinazione del messaggio posso prenderlo posso rielaborarlo posso farci tutto quello che io voglio io mi fermerei qui per oggi ditemi voi se avete dubbi se volete vedere qualche cos'altro se avete domande ditemi pure ci siete ci siete ditemi se volete vedere qualcosa dimmi siccome mi è andato un attimo via la linea mi approfitto un attimo il discorso del se ripeti veloce il discorso delle multiconnessioni c'è la connessione server o la connessione punto punto allora parliamo delle configurazioni server di Connex ma questa configurazione server vale per tutti come tu vedi se io vado su questo nodo su questo nodo KNX ho una configurazione che si chiama casa 16805 che io posso editare qua dentro e gli ho dato il nome casa la stessa configurazione io ce l'ho sugli altri nodi sempre casa sempre casa perché per ottimizzare le connessioni soprattutto in un ambiente con un IP interface io ci ricordiamo abbiamo sempre 5 tunnel quindi adesso mi è chiaro mi ero preso proprio la configurazione no no perfetto perfetto allora quindi vado nel gateway dove ho la configurazione del gateway o comunque del server o comunque della connessione dentro con la matita per editarla qui la posso cancellare la posso cancellare mediante questo la posso modificare questo è abituatevi ad usare una sola connessione proprio per risparmiare i tunnel soprattutto in presenza di P interface perché quello è un problema io per esempio ho avuto un problema su KNX Ultimate questo adesso non lo fa più ma le vecchie versioni di KNX Ultimate avevano dei problemi sulle riconnessioni non chiudevano correttamente i tunnel quindi continuavo ad aprirne dei nuovi il risultato cos'era che la terza volta mi si inchiodava l'interfaccia IP non prendeva più comandi non solo mi buttava fuori gli altri mi buttava fuori ETS a un certo punto con ETS non riuscivo più a programmare il home assistant che uso come controller di casa non riusciva più a mandare i comandi creava questo tipo di problemi e il problema era che Ultimate continuava a cercare di aprire connessioni adesso l'ha sistemata l'ha sistemata anche bene perché è molto molto reattivo fatto proprio bene ti faccio una domanda scomoda se gli altri no c'è qualcuno a cui vuole parlare io ho già fatto domanda poi lascio l'altro chi vuole parlare si faccia avanti Marco ciao sono Sergio ciao Sergio ascoltami no in qua è tutto molto chiaro non so adesso se è in modo di trattarlo oggi però per completezza mi piacerebbe che riuscissi a fare un discursus anche sulla parte di realizzazione delle interfacce di supervivere la dashboard la dashboard farei una cosa a parte mi dedicherei solo a quella perché prima di capire come interagire con la dashboard su Connex che poi è relativamente semplice e bisogna capire la dashboard come funziona lì bisognerà perderci un'oretta un'oretta e mezza questo se riesci a farlo però no no ma è in programma ragazzi ce l'abbiamo in programma la dashboard poi probabilmente probabilmente la farà Gianmarco che è più bravo di me su quella parte lì sono andato per più che altro per avere sai quella rottura del ghiaccio che poi permette di studiare un po' da soli di sperimentare senza perdere decine di ore no no questo primo corso era proprio un'odred che cos'è e che cosa fa non voleva essere nulla di più voleva essere veramente una passeggiata per far capire tutti e più che altro per riuscire ad arrivare poi in quella situazione in cui siamo tutti allo stesso livello e quindi ci muoviamo tutti insieme su cose più complesse andiamo a vedere i telegrammi più complessi andiamo a rivedere le function per elaborarle andiamo sugli operatori sugli assistenti vocali che anche lì è un cinema è un circo andiamo a vedere un po' più nello specifico però l'idea era quella proprio di andarci tutti insieme non io sono rimasto indietro allora recupero con altri corsi no l'idea era proprio quella di partiamo da zero andiamo pian piano recuperiamo gente su lungo il percorso e arriviamo tutti insieme allo stesso punto va bene buon lavoro grazie grazie abbiamo altre se non abbiamo altre domande o altri quesiti direi che ci liberiamo tutti e vi e vi ringrazio sentitamente grazie a te ciao grazie mille ciao ragazzi grazie del vostro tempo grazie alla disponibilità spero di aver atteso le vostre aspettative ciao Marco bravo ciao grazie ciao